Ciao a tutti, alcuni di voi mi hanno detto ma tu parli sempre degli altri, non parli mai di Genova Investimenti, dell'azienda che hai creato un po' di tempo fa. Allora per rispondere a questa domanda ho pensato di usare le cinque domande che fanno di solito i giornalisti. Il chi, il perché, il dove, il come e il quando. Partiamo dal chi. Chi è Genova Investimenti? Allora Genova Investimenti è un SRL che nasce a Genova a fine 2017, nella quale io sono l'amministratore unico che risiede in via 20 settembre come sede legale e come sede operativa vicino al centro commerciale di Fiumara. Molto valido come hub essendo centrale e allo stesso tempo non si paga di parcheggio. Genova Investimenti si occupa principalmente di consulenze, consulenze aziendali, commerciali, immobiliari, anche perché la mia esperienza nasce da queste attività e diciamo che ha creato le condizioni di avere una clientela che ha bisogno di queste opportunità che Genova Investimenti può dare. I risultati sono buoni, non mi posso lamentare di quello che è stato fatto e credo che tantomeno lo possano fare i miei clienti. Il come. Il come è una derivata della mia esperienza lavorativa. Voi sapete che ho gestito una rete di Liguria e Basso Piemonte fatta da punti vendita che avevano le problematiche più diverse. Diciamo che il problem solving era l'ordine del giorno e per il quale spesso dovevi essere anche veloce ad affrontare gli argomenti che erano poi di natura solita commerciale, aziendale, gestionale, qualche volta immobiliare, spesso di relazioni esterne. Diciamo che Genova Investimenti ricopre molto bene tutte queste attività che servono chiaramente a dare valore ai propri clienti e a trovargli le giuste soluzioni. Chiaramente la competenza non era solo rivolta alla rete di vendita ma a tutte le competenze necessarie al buon funzionamento di un'azienda che si occupa dalla finanza, alla gestione contabile delle persone che lavorano nell'ambito della rete stessa, a tutto il mondo immobiliare legato ai magazzini, alle relazioni sindacali, a tutto quello che è l'informatica aziendale e il trasferimento di questa, termini organizzativi e anche alla rete di vendita. Quindi è un'esperienza molto utile per i lavori che sto portando avanti in questo periodo, perché essendo lavori che spaziano a 360 gradi, nel momento che hai una competenza, una capacità, una conoscenza, tutto diventa molto più semplice anche per il tuo cliente. Il dove sicuramente, avendo la residenza a Genova, è sul territorio genovese, sicuramente sul territorio Ligure, sicuramente al nord ovest dell'Italia, ma in effetti sto iniziando a spaziare un po' più a largo coraggio. Diciamo che ci sono alcune prossime attività che probabilmente toccheranno anche qualche paese europeo. Il mio ragionamento è presto fatto. Io vorrei fare sempre e solo cose che in qualche modo mi danno soddisfazione. Esplorare mondi spesso a me sconosciuti mi aiuta molto ad avere ancora più passione in quello che faccio e sicuramente l'estero ti apre dei mondi diversi e che danno delle soddisfazioni diverse. Io credo che sia importante per chiunque di noi fare le cose che piacciono. Guai, pensare al lavoro come un qualcosa di obbligato e soprattutto la grande fortuna che ho io è di fare un lavoro per il quale io sono libero, perché normalmente nelle aziende è chiaramente la libertà di molto diminuita rispetto a un libero professionista o a un'azienda che decide in proprio e si assume chiaramente tutte le sue responsabilità. Il perché? Io parto da questo presupposto. Io ne vengo da un'azienda molto importante, strutturata, patrimonialmente solida, ma allo stesso tempo ci sono tutta una serie di perché della scelta di Genova Investimenti. Ve ne cito solo due. Uno perché per alcune delle persone della vecchie aziende ho avuto un po' di delusioni. La seconda è perché volevo, a maggior ragione, dimostrare di essere capace, anche senza l'azienda madre alle spalle, di riuscire a fare delle cose diverse da quelle che facevo prima e cercando chiaramente di farle al meglio e con la giusta passione. E questo fatto vi assicuro che mi dà una carica notevole nel cercare di trovare le soluzioni più idonee alle aziende che mi hanno chiesto una mano e anche da un punto di vista prettamente personale, perché il mondo degli affari è un mondo complesso, però si può anche riuscire a fare le cose a modo, pur nella complessità in cui ci si va a trovare. Il quando? Beh, sappiamo quando è partito, a fine 2017. Io mi sono dato un obiettivo di tre anni per cercare di creare le condizioni ideali, facendo proprio dei contratti triennali perché certe situazioni non si possono risolvere in qualche mese, però questo non significa che la prospettiva terminerà nel 2020. Diciamo che se avrò la forza fisica, se il Signore mi darà una mano, non è detto che la... non si va davanti. Le condizioni per poter andare avanti, volendo, ci sono tutte. C'è un mondo da conquistare, quindi ci sono sia gli spazi temporali che quelli fisici per poter al meglio sviluppare certi argomenti. Mi piacerebbe, avendo dei nipoti, lasciare un'azienda solida, perché normalmente le aziende quando c'è il cambio del testimone spesso, purtroppo, vanno in crisi. Invece mi piacerebbe realmente lasciare un'azienda solida, non solo da un punto di vista prettamente patrimoniale, ma solida nei valori, solida negli obiettivi che chi subentrerà un domani devono avere ben chiaro. E questo, secondo me, potrebbe essere un bel modo di ragionare. Quindi un'azienda che crea valore, ma non lo crea solo per oggi, ma anche per il prossimo futuro. Spero di essere riuscito a rispondere alle domande che mi hanno posto gli amici in questi giorni. Genova Investimenti sta lavorando con diverse aziende, le più disparate. Come dicevo prima, credo con una discreta soddisfazione da parte di tutti, ma credo anche che ci sia una grande necessità. E questo vale per Genova Investimenti, ma vale per tutte le aziende, sia italiane che no. che è quella di evitare i pregiudizi, le fake news, le invidie e le gelosie. Lo dico alle persone che mi hanno voluto bene e anche a quelle che non me ne hanno voluto. Io credo che chiunque gestisca un'azienda deve, tra virgolette, tirare avanti e non perder tempo a gestire queste situazioni, che sono dei vizi e non chiaramente delle virtù. Le aziende hanno bisogno di prosperare, di avere delle visioni ben chiare davanti e non di dover combattere con pregiudizi, invidie ed egoismi. Il mondo degli affari è fatto spesso di queste situazioni. Però guardate che le aziende che vanno avanti sono quelle che sono capaci a non perderci tempo il più di tanto. Detto questo, io sono convinto che Genova Investimenti avrà un futuro molto importante nel prossimo, anche se i progetti che sto guardando sono progetti oltre che innovativi e oltre che ambiziosi, anche complessi. Però sono un po' il pepe per il quale mi si crea la passione che io ho bisogno. Io ho bisogno di avere sempre degli obiettivi davanti e anche abbastanza difficili. Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione. Ci sentiamo la settimana prossima. Mandatemi mail, mandatemi idee. Io sono sempre a disposizione di cercare di sviluppare i temi più disparati. Grazie, alla prossima.